La tragedia avvenuta questa mattina in porto ci dà la misura di quanto sia importante non abbassare mai la guardia in materia di sicurezza sul lavoro. Le dinamiche dell'incidente sono ancora tutte da verificare? Sì, le dinamiche dell'incidente sono ancora tutte da verificare e vedremo nel proseguo, chiedendo anche un incontro all'azienda, di capire meglio cosa è successo. Nel frattempo mi sento di fare le mie più sentite condolianze mie, di tutte le organizzazioni sindacali e dei lavoratori, oggi molto colpiti, molto provati. Alla famiglia è chiaro che questo incidente comunque dimostra quanto, nonostante quotidianamente si lavori e si presti attenzione rispetto ai problemi che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro, probabilmente quello che facciamo non è mai abbastanza. Nel porto le situazioni sono sempre un po' particolari, nel senso che magari gli incidenti sono meno frequenti rispetto ad altre realtà, ma quando ci accadono generalmente sono piuttosto pesanti. Per fortuna il porto di Spezia, credo anche per l'attenzione che come organizzazioni sindacali mettiamo tutti quanti quotidianamente rispetto ad altre realtà, da anni non si registravano incidenti piuttosto gravi, questo è vero. Con l'SCT, di cui era dipendente la persona scomparsa, c'è un canale aperto, un confronto aperto? Personalmente e come organizzazioni sindacali abbiamo apprezzato il gesto dell'azienda di chiudere il terminal, perché comunque non era un fatto assolutamente scontato. E quindi è un gesto di sensibilità, di rispetto nei confronti dei lavoratori, dei suoi colleghi e della famiglia che a noi ci ha fatto molto piacere. Chiaro che avremo degli incontri con l'azienda a breve tempo, cercheremo di capire meglio, al di là del fatto che c'è l'autorità giudiziaria che a questo punto dovrà capire le dinamiche dell'incidente, ma comunque cercheremo di capire meglio con l'azienda le cause e vedere come intervenire per far in modo che non accadano più incidenti come quello di oggi.